Amici cari, l'approfondimento di oggi per i grandi personaggi della storia umanistica è rivolto a uno dei più grandi studiosi di archeologia romana, Giacomo Boni. Dopo gli studi tecnici partecipò ai restauri che si eseguivano sul Palazzo Ducale di Venezia e studiò architettura all'Accademia delle Belle Arti. Nel 1888 è nominato segretario della Regia Calcografia, nel 1890 ispettore dei monumenti della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Nel 1895-1896 è direttore dell'Ufficio regionale dei monumenti di Roma e a partire dal 1898 dirige gli scavi del Foro Romano, a cui a partire dal 1907 si aggiungono quelli del Palatino. Si interessa di tutela e valorizzazione dei monumenti, promuove la creazione nel 1907 del Gabinetto Fotografico Nazionale e auspica l'istituzione di un catalogo nazionale e lo stabilimento di norme aggiornate per i restauri, privilegiando le ragioni della conservazione rispetto a quelle della ricostruzione. Si occupa inoltre dell'utilizzo delle piante in relazione ai resti antichi, sia come protezione delle murature dal disgregamento, sia come loro presentazione al pubblico. Nell'ambito dello scavo segue un metodo scientifico, applicando tra i primi i principi dello scavo stratigrafico. Fu il primo, nel 1885, ad applicarlo alle ricerche di archeologia classica, prima ancora di Wilhelm Dorpfeld. Sviluppiamo ora un piccolo approfondimento su cosa sia lo scavo stratigrafico. Lo scavo stratigrafico costituisce il metodo elaborato dall'archeologia per raccogliere e documentare i dati disponibili in un determinato sito riguardo alle attività umane che vi hanno avuto luogo e all'ambiente con cui hanno interagito. Possiamo cominciare partendo da una situazione di partenza e, successivamente, l'azione umana di asporto del materiale. Quindi, come potete vedere anche dallo schema, lo scavo di due fosse di fondazione che, per l'archeologia, determinano unità stratigrafiche negative che sono evidenziate dalle linee scure che vedete. Poi troviamo una serie di azioni umane di accumulo di materiale, quindi muri con proprie fondazioni che sono costruiti nelle fosse di fondazione e queste fosse vengono riempite con il terreno livellato e viene, inoltre, costruito il pavimento con il tetto. Quindi, in questo caso, parliamo di unità stratigrafiche positive. Abbiamo poi l'evento di questo crollo dell'edificio, che in questo caso sono costituite da unità stratigrafiche negative del crollo dei muri, evidenziate sempre dalle linee scure, e unità stratigrafiche positive del crollo dei diversi materiali. Poi avviene un deposito alluvionale o lento accumulo di materiale portato dal vento, ancora una volta unità stratigrafica positiva. Insomma, ogni azione umana o ogni evento naturale ha lasciato in un sito una traccia che si sovrappone alla situazione preesistente e che quindi costituisce una US, quindi un'unità stratigrafica. A seconda che siano effetto di un evento naturale o di un'azione umana, le unità stratigrafiche si possono intanto suddividere in naturali, quindi depositi alluvionali, crollo di mura, e artificiali, depositi di immondizia, costruzioni di mura, scavo di un fossato, eccetera. Inoltre, possono comportare accumulo o asporto di materiali rispetto alla situazione preesistente. Avremo quindi unità stratigrafiche positive, di nuovo depositi alluvionali, costruzioni di mura, eccetera, o negative, scavi di un fossato, crolli di un muro. Il metodo è stato elaborato a partire dal concetto di stratigrafia individuato in geologia, per cui le rocce si depositano in strati sovrapposti, con quelle più antiche alla base e quelle via via più recenti che le vanno a coprire. In modo analogo, gli strati di terreno che si erano depositati in un sito permettevano di individuare la successione cronologica dei manufatti che vi erano rinvenuti. Questo è quello che succede quando l'archeologo scava, documentare strato per strato evidenziando le diverse tracce che si vengono a definire fra il passato e l'attuale presente. Boni è tra i primi che si interessa dei materiali rinvenuti negli scavi e della loro collocazione fisica all'interno degli strati. Per primo considera di uguale importanza anche il materiale medievale, senza privilegiare l'età classica. Tra i primi si avvale di disegni e di fotografie per la documentazione. Della sua attività di studio e ricerca restano numerosi documenti di archivio presso la sovrintendenza archeologica di Roma. Alle sue ricerche nel foro romano si devono la scoperta dell'apis niger, della reggia, dell'acus curzius, dei cunicoli cesariani nel sottosuolo della piazza, della necropoli arcaica presso il tempio di Antonino e Faustina e della chiesa di Santa Maria Antigua. Sul palatino portò alla luce una cisterna arcaica a Tolos, i ricchi ambienti della Casa dei Grifi e della cosiddetta Aula Isiaca, al di sotto del palazzo imperiale di età Flavia. Come architetto si occupò nel 1896-1897 della ristrutturazione di Villa Blanca a Roma, proprietà di Alberto Blanc, ministro degli esteri del re Umberto I. Nei giardini della villa fu inserito un mausoleo romano rinvenuto nel 1896 dallo stesso Boni, in uno scavo sulla via Flaminia presso Tor di Quinto. Giacomo Boni sviluppò un forte interesse per l'antica religione romana e per una sua eventuale riattuazione e adozione da parte dello Stato e tentò di influenzare in tal senso Francesco Crispi e Sidney Sonnino, ma soprattutto Benito Mussolini, col quale simpatizzò perché credeva che il fascismo potesse far rinascere l'antica Roma. Tra i tentativi fatti per restaurare la religione romana vi furono veri e propri riti pagani da lui eseguiti. Si ricordano la commemorazione dell'Acus Cursius nel 1903 con l'amico Orazio Brown, la purificazione del Tempio di Giove vincitore nel 1916, la costruzione dell'Ara Graminia sul Palatino nel 1917. Boni approntò anche un programma di celebrazioni per il primo anniversario della marcia su Roma che prevedeva una serie di cerimonie pagane, Cereris Mundus, Ludus Troie, Opus Coroniarum, Ludi Palatini e Lupercalia. Le stesse ricerche archeologiche di Boni furono influenzate dai suoi rapporti con l'ambiente esoterico del tempo. Frequentò il salotto di Emelina De Renzis, madre di Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, e fu in corrispondenza con Leone Caetani. E da esperienze personali al limite del paranormale, sogni come quello che gli rivelò la scoperta dell'Apis Niger la notte prima attraverso una serie di visioni e voci misteriose. Nel 1903, in seguito al crollo l'anno prima del campanile di San Marco a Venezia, poi ricostruito negli anni successivi, fu chiamato per lo scavo archeologico delle sue fondamenta, dove identificò strutture di epoca romana. Boni morirà nel 1925 e le sue spoglie sono seppellite sul Palatino, negli orti farnesiani, dove condusse gran parte della sua vita nella ricerca archeologica romana. E come sempre, per concludere i nostri video approfondimenti, vi lascio una piccola bibliografia per approfondire di più la vita di questo personaggio. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video sui grandi personaggi della storia umanistica, dargati Artelet Filoarcheo. Grazie e a presto! Grazie! 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 Grazie!